Vuoi segnalare un problema direttamente al tuo comune? Segnala.mo è un nuovo servizio che permette ai cittadini di Modena di inviare e geolocalizzare le proprie segnalazioni sia attraverso il computer che utilizzando l'app Rilfedeur per tablet e cellulari. Si possono segnalare problematiche inerenti all'arredo urbano, la manutenzione dell'illuminazione pubblica, dei semafori, dei parchi pubblici e delle aree verdi, ma anche problemi legati alla manutenzione di strade, piste ciclabili e verde stradale. Si possono segnalare problemi di viabilità e traffico, di pulizia e disinfestazioni di aree pubbliche e varie situazioni di degrado sociale. Per fare una segnalazione è sufficiente accedere al sistema e cliccare sulla mappa o digitare l'indirizzo. Se la segnalazione non riguarda un problema riconducibile ad un indirizzo specifico, basta scegliere come indirizzo quello del municipio, ovvero via Scudari 20. Con segnalamò possiamo tutti contribuire ad avere una città migliore semplicemente con un clic.